C'è una moda passeggera quella per cui i mercati si avventino sui titoli del debito sovrano italiano. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante, in tutte le occasioni questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iper prenotati. Ecco, non credo che voi vi accorgiate andando a vivere in Italia che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.